ciao benvenuti in questo nuovo video questo è il canale cuccioli ecco e siamo di nuovo in questo video per la quarta parte di questo gioco sto facendo tanti parte sto facendo tanti tante parti scusate di questo gioco perché non so che video fare sinceramente e anche perché è bello come gioco iniziamo partendo subito con un mini gioco facciamo tre ah mi sono dimenticata di dirvi che questo è un nuovo mostriciattolo di tom sarebbe un pappagallino ce ne stanno tanti mostriciattoli poi ve li farò vedere un po strano attenzione musichetta bisogna prendere questi palloni palloncini non so che cosa sono ho superato il record come vedete non si può andare dove c'è la x e neanche nei nei fantasmi questo è un nuovo mini gioco prima non c'era perché come vi dicevo sto gioco lo scaricai e poi pure tempo fa hanno aggiunto due mini giochi nuovi no mi sono confusa scusate abbiamo guadagnato 43 punteggi aerei quindi parlo un po' a bassa voce sennò tutti mi sentono e sembra male che parlo poi da sola se sentite voci non fateci caso ok scusate allora come vi dicevo questi sono gli amici di tom i mostriciattoli io adesso c'è il pappagallo poi c'è quello specie di orso non so che cos'è poi quella deve essere questa sugar vuol dire zucchero e deve essere un unicorno questo si chiama gas e questo dot deve essere un robot io uso questo qui ci sono delle cose che possono fare vediamo no no forte sta cosa devo rasargli i capelli ah devo fare come mi dice sopra praticamente devo tagliare la parte più bianca ma così sembra Einstein no non mi piace assai però vediamo cosa possiamo fare con la pionda no no ah carino ah si muove come ben sapete io c'ho una pessima mira ve lo dico subito mmm no basta tom se vedete il pezzo della torta è perchè quando ha fatto 5 c'è il quinto livello a tom qua li danno la torta festeggiano il suo compleanno come il primo quando hanno fatto gli aggiornamenti al primo gli ultimi aggiornamenti a tom quando saliva di livello che cresceva allora facevano una torta poi canticchiavano la musica del buon compleanno è forte no vediamo suo amichetto poverino mi sa che vuole diventare giallo l'animaletto boh non capisco vabbè proviamo a fare qualche frullato a fare qualche miscuglio vediamo un po' fico e questo è venuto a forma di cuori no è successo il terremoto avete visto madonna mia non capisco cosa vuole l'animaletto che fa quella vignetta la non capisco cosa vuole boh boh ma vediamo beh io cambio personaggio il video si può concludere qui mi raccomando lasciate like scrivete qualche commento se volete e spero che vi sarà piaciuto e niente ciao alla prossima vediamo